Musica Oggi apriamo la nostra sede di Corvetto, finalmente arriviamo a sud di Milano. Lo scopo del 120 Sant'Agostino è quello di offrire servizi sanitari, territoriali di qualità, cercando di arrivare il più vicino possibile a dove le persone vivono. I servizi più semplici, le visite mediche, le ecografie, tutto quello di cui tutti hanno bisogno e che spesso sono quelli più tralasciati, sia dal sistema sanitario nazionale che dai fornitori privati che privilegiano le prestazioni a più altro valore, siamo vicini alle persone per affrontare i loro problemi quotidiani sulla sanità. Musica Come in tutti gli altri centri abbiamo portato qui le nostre ormai 44-45 specialità e abbiamo i prezzi probabilmente migliori di Milano per quello che facciamo a fronte di una qualità che ormai si è rivelata stellata. Musica 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 Musica